Arriva in Italia la nuova concezione del profumo. Equivalenza, fragranze spagnole realizzate con le essenze più pregiate. Scegli il tuo profumo preferito tra più di 150 fragranze che puoi trovare nei nostri esclusivi punti vendita ad un prezzo che ti sorprenderà. Scopri i profumi, gli aromi e i cosmetici più speciali e tuffati in un nuovo ed entusiasmante mondo di fragranze. Equivalenza, l'essenza del profumo. Grazie.